Sono Emiliano Faccioli di Crestron Italia, mi occupo delle vendite nell'area nord-ovest e della formazione di prodotto e di marketing in Crestron. Oggi parliamo di 4K e Digital Media e di due storie di successo, la prima che vede proprio Digital Media come protagonista e la seconda che come protagonista vede il software Crestron Fusion. Partendo da Digital Media e dal 4K, ricordiamo che noi abbiamo la spina dorsale del nostro prodotto che fino ai suoi primi prototipi nel 2006 era stato progettato e pensato per supportare le risoluzioni 4K. Cerchiamo di sfatare un po' di miti e di mettere su chi valate, di avvertire tutti i nostri clienti e partner, di quali possono essere le problematiche inerenti alle distribuzioni 4K, che per il mercato oggi sono una cosa nuova, ma ripeto, essendo partiti nel 2006 con un backbone 4K, in realtà per noi sono una tecnologia consolidata al punto di essere quasi banale e dal consentirci di certificare come 4K compliant, o meglio, inseribili all'interno di una struttura Digital Media in 4K, anche prodotti di terze parti. Come si può vedere dal nostro sito web, è tutto in chiaro e visitabile da chiunque. Sempre parlando di Digital Media in 4K, declinandolo però nella sua versione HD e ponendo invece l'accento su tutto quello che è la potenza, la flessibilità e la scalabilità del sistema, portiamo l'esperienza di un noto istituto di credito lombardo che ha scelto Digital Media come spina dorsale della sua distribuzione audio-video in multimediale all'interno del proprio polo di formazione recentemente costruito e che ha visto la più grossa e articolata installazione Digital Media in Italia. Analizziamo il successo della soluzione, analizziamo le cause, i motivi di questo successo e diamo anche un'occhiata a quali sono stati i punti critici che la nostra tecnologia è stata in grado di sciogliere. Passando invece alla soluzione Fusion, portiamo l'esempio di una multinazionale francese con sede nell'Interland di Milano che ha scelto proprio la piattaforma Fusion come piattaforma per la prenotazione delle sale e come si è arrivati a questa proposta che all'inizio sembrava avere tutte le carte in regola per essere non dico scartata ma quantomeno per avere vita molto difficile all'interno dell'installazione e invece grazie alla tecnologia, grazie al know-how accumulato da Crestron e alla proattività dei nostri partner che non va mai dimenticata, siamo riusciti a portare quella che era in realtà una piccola installazione di un paio di processori e un paio di pannelli ad essere la grossa installazione Fusion con pannelli fuori porta e software completamente configurato mai fatta in Italia.